Sono comparsi stamattina davanti al giudice Elisabetta Garzo, come previsto, i principali indagati nell'inchiesta Molière, che ha portato all'arresto di nove persone tra il Cilento e l'area del Napoletano, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al falso e alla truffa aggravata allo Stato. I due armatori del Golfo di Policastro, Rocco Mega e Nicola Di Mauro, hanno risposto alle domande del giudice per chiarire la propria posizione. L'armatore di Casalvelino, Davide Morinelli, invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dal giudice è stato sentito anche il medico di Montecorice, Francesco Russo, mentre l'interrogatorio della convivente di Morinelli è in programma per domani a Salerno. I legali Di Mega e Di Mauro, gli avvocati Ferdinando Palazzo e Franco Maldonato, si sono detti soddisfatti dell'andamento dell'interrogatorio. Abbiamo mostrato, hanno detto, che la situazione è radicalmente cambiata rispetto al 2011 per i nostri assistiti. Non dovrebbero più sussistere i requisiti per la misura cautelare adottata nei loro confronti. Sulla base, dunque, della documentazione e degli elementi forniti nel corso della seduta dinanzi al giudice, la misura di detenzione potrebbe essere modificata o revocata, arrivando anche alla scarcerazione. Entro giovedì la Garzo potrebbe esprimersi al riguardo, anche perché lunedì scadono i termini per il riesame. Al momento Mega e Di Mauro sono detenuti nel carcere di Vallo della Lucania. Intanto, dalla settimana prossima, partiranno gli interrogatori dei 36 marittimi sottoposti fino ad ora all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La vicenda è stata portata alla luce dopo più di un anno di indagini. Il blitz della Capitaneria di Porto di Salerno, dietro il comando del Capitano di Vascello Maurizio Trogu, ha condotto a svelare i meccanismi di un'affaire che avrebbe fruttato consistenti guadagni agli arrestati e notevoli perdite per le casse dello Stato. Gli armatori assumevano dei marittimi per poi metterli in malattia non appena avessero maturato l'indennità e in alcuni casi li riassumevano in altre attività o facevano loro incassare anche l'indennità di disoccupazione, sfruttando medici compiacenti, pronti a falsificare certificati e l'assenza di comunicazione tra l'Inps e l'Inail.